È una problematica che abbiamo attraversato negli ultimi tempi con alcuni arresti che sono stati fatti. Ci sono degli strumenti che vengono in soccorso alle persone che sono vittime di questo abietto reato. Si può accedere a dei fondi anti-racket e anti-usura che sono accessibili attraverso delle istanze alla prefettura. E' logico che la condizione fondamentale per poter usufruire di questi fondi e di queste risorse è fare la denuncia, denunciare il proprio usuraio. E io quindi invito tutti quanti coloro che si trovano in queste condizioni ad avere la forza e il coraggio di denunciare l'usuraio. E l'esperienza investigativa ci insegna che questa è la strada giusta perché nella stragrande maggioranza dei casi, se non nella loro totalità, le situazioni sono state poi risolte. L'utilizzo di armi, soprattutto da parte di coloro che non ne sono abitualmente dediti in maniera professionale, è sempre un utilizzo residuale, cioè deve essere l'estrema razio. Anche in questo senso il nostro codice penale, all'articolo 52, prescrive quali sono i casi in cui la difesa è legittima. In tutti gli altri non lo è evidentemente. Per cui si tratta di poter utilizzare l'arma solamente nei casi in cui vi è un pericolo attuale per difendere la propria incolumità o quella di chi ci sta in quel momento vicini o i propri beni laddove non ci sia logicamente desistenza e laddove appunto vi sia un'attualità di pericolo e un'aggressione che si sta per paventare o addirittura si è verificata. Ciò significa che logicamente sparare dalla finestra, sparare dal balcone o inseguire il malvivente quando questi sta scappando, raggiungerlo e magari far l'oggetto di colpi da fuoco non è ammesso.